Carlo Carpi, l'imprenditore genovese che si era candidato a sindaco di Imperia alle ultime elezioni con la lista Insieme per Imperia e che ha conquistato soltanto 28 voti, continua nella sua battaglia per fare chiarezza sui risultati elettorali e annuncia di voler presentare un ricorso. Carpi infatti ieri è tornato in comune a Imperia per acquisire della documentazione e ha affermato che il verbale della sezione numero 5 risulta addirittura in bianco, mentre nella sezione 8 è stato messo a verbale su richiesta del Movimento 5 Stelle che è stata adottata una modalità di spoglio di forme da quella prevista dalla legge. Sempre Carlo Carpi ha anche sottolineato che al primo turno sono stati annullati 525 voti, mentre al secondo turno, nelle sezioni 8 e 18, sono stati ammessi al voto due elettori in più rispetto al primo turno e al seggio 5 il verbale risulta di nuovo in bianco. I voti annullati al ballottaggio sono stati 709 e 216 le schede bianche. Secondo Carpi infine le schede annullate al primo e al secondo turno avrebbero potuto modificare l'esito del voto e per questo l'ex candidato sindaco sta valutando con i suoi legali di fare un ricorso.